E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di recensione più doppiaggio, quest'oggi parliamo di Ricky Stanecki, il film con Zac Efron e John Cena. Trama. Allora, praticamente ci sono questi tre amici, che sono amici fin da piccoli, e un giorno ad Halloween fanno una bravata, che è tipo un danno fuoco a della merda di cane, prende fuoco una casa. E da quel momento lì hanno avuto questa brillante idea a Zac Efron, da piccolo, di scrivere su delle mutande il nome di Ricky Stanecki e lasciarle lì. Così la polizia ha pensato che quelle mutande fossero del colpevole e tutti ha cercato Ricky Stanecki. Da quel giorno, Ricky Stanecki è diventato il loro amico immaginario, che è la scusa un po' per tutte le cose. Ogni volta che è successo qualsiasi cosa, insomma, tipo che ne so, l'hanno beccati con delle canne, ce l'ha data Ricky Stanecki, è successo che abbiamo rubato qualcosa in al supermercato, ce l'ha detto Ricky Stanecki. Tutte, insomma, tutte scuse, così. E loro l'hanno continuata ad utilizzare, essendo dei bambocci fino alla vita anche adulta, come scusa per qualsiasi cosa, anche il semplicemente dire dobbiamo andare da Ricky Stanecki per farsi un viaggio tra amici senza le rispettive ragazze, senza rotture di coglioni. E in un viaggio come questo incontrano il nostro John Cena, che è un attore fallito, perché è fallito, che si diverte a fare anche canzoni sulle seghe, intendo proprio le seghe, non le seghe per il degno. E niente, ci chiacchierano un po', così, bla bla bla, eh? Fino a che poi non arriva il momento in cui loro stanno per essere, insomma, scoperti del fatto che Ricky Stanecki non esiste. Perché dopo 40 anni, finalmente gli è venuto il dubbio di di Ma perché ci lo fate vedere sto Ricky Stanecki, visto che esiste, state sempre insieme a queste cose? E quindi questi si trovano, in un certo senso, costretti a soldare il nostro John Cena attore per interpretare Ricky Stanecki. Succedono varie cose che fanno ridere a destra e manca, alla fine sto Ricky Stanecki succederà che, insomma, ci farà veramente amicizia e rimarrà per sempre lì. E pazienza. Film, cioè, trama estremamente semplice, per un film sicuramente molto semplice, appunto, e demenziale. Comunque, una cosa abbastanza, per ora, dal mio punto di vista, originale. Quindi gli darò un po' più della sufficienza, direi un 7. Anche perché non è però chissà che cosa. No. E, niente, passiamo ai personaggi. I personaggi sono i loro tre amici, di cui abbiamo Zac Efron, che è il classico fighetto tutto a posto, che ha sempre la vita che va benissimo. Poi c'è un amico biondo, che... Biondo roscio, non mi ricordo molto come cazzo era. E, niente, ha una vita un po' più normale, in un certo senso, però è tipo scialla. E poi c'è il loro amico nero, che è anche gay. Semplicemente. Cioè, queste sono le loro caratteristiche, a dire la verità. Ponecchini. E John Cena... Beh, fa ride perché è John Cena, fatto The Crack, quindi, vedi, un pompato, rovinato, distrutto. Che suda perché è alcolista e non beve. Però, comunque, divertente, appunto. Che, comunque, riesce a dire di no alle sue dipendenze, pur di stare nel personaggio. È carina come cosa. E, niente. Questo è tutto. E, direi, un sette anche qui. Dai. Poi, andiamo direttamente all'obiettivo. L'obiettivo era una commedia, sicuramente, fatta con un personaggio che già fa ride così. Perché, se tu mi metti, naturalmente, John Cena a fare il comico, farà sempre ride. Perché è un gorilla. È normale che fa ride. Con un'idea abbastanza carina, tutte queste cose. Io direi un sette anche qui. Così, almeno, facciamo un sette pari per il voto finale. E vi consiglio, se volete farvi una risatina, questo film. Sicuramente lo guarderete una volta, massimo due, nella vostra vita. Però, comunque, carino. Divertente per quella volta che volete farvi due risate. E, niente. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio di Ricky Stanechi. Ciao.